qualcosa, qualcosa si inizia a muovere qualcosa si inizia, persino io mi sono mosso, non sto più nella mia location abituale ecco perché si vede uno schifo, veramente panico per la qualità, però pazienza, pazienza, pazienza quello che ci interessa è che il mercato finalmente ha preso uno slancio arriva Cedric Godin, ha passato le visite e anche la trattativa di De Paul sembra essersi incanalata l'effetto Marotta? io direi più che altro l'effetto Suning che forse finalmente ci vuole tempo e questo tempo, giorno dopo giorno, sta dando ragione a questi signori qua allora, per quanto riguarda Cedric ne ho già parlato, se non sbaglio ieri, non ricordo nemmeno cosa ho mangiato ieri quindi figuratevi se posso ricordare di cosa ho parlato comunque Cedric, 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 come cavolo si chiama lui è un giocatore, è un incognito che vi posso dire tanto incognito no, perché comunque ha vinto gli europei con il Portogallo insieme al carissimo Canselo, qualcuno se lo ricorderà e che dire su di lui? ho visto qualche video, devo dire la verità mi sono andato a vedere qualche video e non mi esalta non mi esalta, ma si parla di prestito con diritto se non erro con diritto di scato, quindi è sempre da testare, da valutare ed è fissato a 11 milioni il diritto francamente più che altro questo acquisto del terzino mi fa pensare che Virsalico veramente è andato un infortunio, adesso si parla di un infortunio abbastanza grave che forse si deve, non si deve operare Virsalico, mannaggia la miseria, era un ottimo terzino era un giocatore, secondo me, adatto alla squadra ma questo mi fa capire che sicuramente l'abbiamo perso però abbiamo sempre Dani Lone se qualcuno teme qualcosa, non vi preoccupate la fascia non rimarrà mai scoperta perché c'è Dani Lone, Dani Lone a vita Dani Lone a vita e questo è per quanto riguarda Cedric c'ho un mal di testa pazzesco dovrei solo dormire, però sto qua con voi perché giustamente la mia famiglia siete voi quante cazzate, quante cazzate dopo Dani Lone, dopo Cedric parliamo di Godin che Godin era un po' uscito dagli schemi e poi all'atletico avevano fatto di tutto per trattenerlo Simone che comunque ci siamo capiti e quindi io pensavo che alla fine questo Godin ce lo strappassero in qualche modo invece, invece, Notizia di Sky praticamente ha sostenuto in gran segreto cioè, lavoriamo in casa intera adesso riusciamo a lavorare anche in gran segreto questa sì che è una novità questa sì che è una piacevole novità quindi in gran segreto ce lo siamo aggiudicati e il figlio mio Godin De Vrari, Scrinia che difesa ma quanto siamo forti ma quanto siamo tosti ma quanto siamo rocciosi là dietro con lui qualcuno ipotizza l'arrivo anche di Conte perché si passerebbe alla difesa a tre non corriamo non corriamo siamo tranquilli stiamo sereni vediamo un po' e non pensiamo già a giugno perché Godin ovviamente arriverà a giugno pensiamo adesso si avvicina ancora di più la partita col Toro e mi preme dirlo dobbiamo portare a casa i tre punti col Toro perché non è una partita semplice parliamo di calcio mercato divertiamoci giochiamo facciamo quello che vuoi quello che volete ma voglio quella cazzo di Vittoria col Torino quanto la volete voi quanto volete quella cazzo di Vittoria col Torino perché quella è un crocevia importante è una partita tostissima durissima e da lì l'Inter deve deve ripartire perché poi se se fai un altro pareggio uno sconfitto col Toro le cose iniziano a cambiare non positivamente va bene senza che ci dilunghiamo troppo e niente dove sono volete saperlo non ve lo dico non ve lo dico ve lo faccio scoprire magari seguitemi su Instagram neschio trattino passo 92 e quindi lo scoprite da soli va bene va bene conclusione va bene niente musica oggi niente mal di testa mal di testa fatemi sapere cosa ne pensate voi di Cedric Cigodin e di cosa più di quello che vi pare della partita col Toro un grande abbraccio amala sempre e comunque se ancora non l'hai fatto lascia un like alla mia pagina Facebook iscriviti al canale YouTube e seguimi su Instagram su Instagram Grazie a tutti.